Gli studi sul pregiudizio razziale nascono e si sviluppano negli Stati Uniti tra gli anni 20 e gli anni 30 del XX secolo. Fino a quel momento gli studi psicologici sulla razza avevano cercato più che altro di dimostrare, quindi spiegare la superiorità dei bianchi sulle altre razze che vivevano in America, in particolare ovviamente su quella nera. Dopo la prima guerra mondiale gli studiosi abbandonano progressivamente il punto di vista razzista che implica quindi che i bianchi siano la razza superiore e iniziano a porsi questa domanda. Se le altre razze non sono inferiori, come si spiega che i bianchi nel tempo le abbiano sistematicamente messe ai margini della società? Allora, gli psicologi sociali cominciano quindi a studiare i pregiudizi dei bianchi e non più la presunta inferiorità dei neri. E' più in generale che cosa significasse davvero il concetto di pregiudizio. Poi, con la seconda guerra mondiale e quindi con l'esperienza del nazismo e le tragiche conseguenze dell'antisemitismo, gli studiosi prendono coscienza dell'enorme diffusione che può avere il pregiudizio razziale e anche della sua pericolosità in termini di conseguenze che può portare nella società. La psicoanalisi ne fornisce una spiegazione psicodinamica e ricordiamo che la psicodinamica in psicologia è l'insieme dei meccanismi e processi psichici sottesi al comportamento e più in generale proprio alla personalità di un individuo, sia preso come singolo individuo sia in relazione agli altri. Quindi la spiegazione psicodinamica che la psicoanalisi fornisce per il pregiudizio razziale è che appunto il pregiudizio è il risultato di meccanismi inconsci che incanalano tensioni e frustrazioni del singolo e anche della collettività verso una minoranza. In altre parole, frustrazioni del singolo e anche della collettività verso una minoranza presunta colpevole appunto di problemi del singolo o della collettività portano appunto al formarsi del pregiudizio razziale. Questi meccanismi, secondo gli studiosi, avrebbero un carattere difensivo, servirebbero cioè ad alleviare le angosce personali e del proprio gruppo sociale. Intorno agli anni cinquanta gli studiosi si chiedono se esistano tipi di personalità che sono particolarmente propense al pregiudizio. E più in particolare, proprio partendo dall'osservazione della storia, gli studiosi si chiedono se il fanatismo che aveva generato l'olocausto era, diciamo, nato in personalità patologiche o era potenzialmente una caratteristica che poteva essere presente anche in persone con processi mentali, tra virgolette, normali o comunque non patologici. Per dare risposta a questa domanda, negli anni sessanta-settanta gli studiosi mettono da parte i loro dubbi squisitamente psicologici appunto sull'individuo, per studiare in particolar modo le dinamiche di gruppo e i conflitti di interessi tra i gruppi. Tutto questo appunto negli anni sessanta-settanta, quando nel sud degli Stati Uniti viene combattuta una dura battaglia da parte della popolazione di colore per i loro diritti. A questo punto agli psicologi appare chiaro, agli psicologi sociali appare chiaro che il razzismo di intere nazioni come il Sudafrica o gli Stati del Sud e degli Stati Uniti non sia riconducibile a particolari patologie o a semplici differenze individuali, ma sia proprio qualcosa che rimanda appunto a una dinamica del gruppo sociale. Da questi studi emerge come il pregiudizio, in questo caso il pregiudizio razziale, rappresenti una delle norme del vivere sociale di quegli anni appunto. E per essere considerati un buon cittadino bisognava appunto essere razzisti. Le vicende successive, quindi quelle di fine anni settanta, poi anni ottanta e novanta riportano l'attenzione degli studiosi sulla dimensione individuale, quindi psicologica. Il razzismo che venne dappertutto apparentemente abolito per legge e ufficialmente condannato risorge però sotto altre forme, più sottili e individuali. Attualmente il pregiudizio razziale viene spiegato in via teorica con un modello che prevede quattro processi fondamentali e tra loro complementari. Quindi ognuno di questi processi non è singolarmente sufficiente per spiegare il fenomeno del razzismo, ma la loro integrazione, secondo gli psicologi sociali, fornisce una spiegazione sufficientemente ragionevole. Quali sono questi quattro processi fondamentali? Allora, il primo, si tratta di alcuni processi psicologici universali che rafforzano il pregiudizio, quindi si tratta di meccanismi di difesa. Il secondo processo fondamentale che porta al razzismo riguarda alcune... al pregiudizio, riguarda alcune forme di interazione sociale che trasformano il pregiudizio stesso, in particolare quello razziale, in una delle norme che regolano la vita sociale del gruppo. Quindi il gruppo sta unito proprio attorno, diciamo, a questo concetto di razzismo. La terza, il terzo processo fondamentale, è una modalità di funzionamento del gruppo, quindi quella che abbiamo descritto in precedenza, che viene trasmessa e fatta propria dai singoli membri del gruppo. Quindi questo pregiudizio che diventa norma non solo viene rispettato, diciamo così, questa norma viene rispettata, ma viene anche trasmessa e poi interiorizzata e fatta propria, quindi, dai membri del gruppo. L'ultimo processo è questo, quindi le differenze individuali tra le persone spiegano il maggiore o minore adeguamento al pregiudizio razziale del gruppo. Quindi per persone appartenenti allo stesso gruppo esistono delle differenze individuali che spiegano il maggiore o minore adattamento della persona stessa al pregiudizio, che è norma, appunto, di funzionamento del gruppo. Molto bene, questo video termina qui, spero lo abbiate trovato interessante. Ciao a tutti e alla prossima.